Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Le attività istituzionali di questa settimana, illustrato in prima commissione il disegno di legge dell'esecutivo di Palazzo Donini per contributi all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. Nella prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, è stato illustrato il disegno di legge della Giunta dal titolo Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi. Il provvedimento, presentato dall'esecutivo di Palazzo Donini, per finanziamenti in favore dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria, autorizza la Giunta a poter erogare contributi nel triennio 2022-2024 per un importo massimo di 12 milioni di euro, che serviranno come incentivo per l'implementazione dei flussi turistici in arrivo, ma anche per la continuità aziendale della società che gestisce l'aeroporto. Gli eventuali contributi verranno elargiti attraverso Svilupp Umbria, che fa parte anche della compagine societaria di SASE. Nell'atto vengono previste tre linee di intervento finanziario. Misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid, che ancora per l'anno in corso sono consentite. Il sostegno all'operatività e agli investimenti di aeroporti, che registrano un traffico inferiore ai 700.000 passeggeri annui, e infine sovvenzioni alla SASE per incentivare i vettori aerei a implementare nuove rotte, o a consolidare quelle esistenti per il sostegno dei flussi turistici. L'obiettivo è il rilancio dell'aeroporto con l'aumento del traffico di passeggeri, così da contribuire al superamento dell'atavico isolamento dell'Umbria e alla valorizzazione degli ingentissimi fondi pubblici spesi negli anni per lo scalo. In questo modo si renderebbe l'Umbria maggiormente attrattiva non solo turisticamente, ma anche per studio, lavoro, investimenti e imprenditorialità, un risultato che determinerebbe un notevole incremento del PIL regionale. In seconda commissione audizione sulle ripercussioni riguardanti il comparto vitivinicolo e il settore agroalimentare a seguito delle sanzioni della Unione Europea alla Russia. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Nella riunione della seconda commissione presieduta da Valerio Mancini è stato approfondito attraverso una serie di audizioni il tema concernente le ripercussioni sul comparto vitivinicolo Umbro e sul settore agroalimentare regionale a seguito dell'imposizione delle sanzioni da parte dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Dai partecipanti alla riunione è emersa sostanzialmente la necessità di intervenire da parte di ogni livello istituzionale sul costo dell'energia e sulle materie prime necessarie per l'attività delle imprese del comparto. Comeppure è stata sottolineata l'esigenza della creazione di distretti energetici e dell'organizzazione di una strutturata rete imprenditoriale. Il dirigente regionale Franco Garofalo ha spiegato le iniziative messe in campo a livello comunitario e nazionale per affronteggiare l'emergenza. Misure importanti, ha assicurato Garofalo, le sta predisponendo anche la regione. Verranno previste misure attraverso un principio di proporzionalità introducendo meccanismi che prevedono un ristoro proporzionato rispetto alla tipologia dell'impresa. A chiedere la programmazione dell'audizione del confronto è stato il consigliere membro della stessa commissione Manuela Puletti della Lega. Il settore vitivinicolo Umbro ha ricordato dopo gli anni difficili della pandemia sta dando un forte contributo alla ripresa della nostra regione. Sono intervenuti in videoconferenza Giampaolo Farchioni della Coldiretti Fabio Rossi, Confagricoltura Giampaolo Tabarrini, Consorzio Tutela Vini Montefalco ed altri titolari di aziende agricole. Alla riunione ha preso parte anche il dirigente regionale Franco Garofalo che oltre alle iniziative della regione ha ricordato che la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per la crisi con validità fino al 31 dicembre prossimo che consente di fronteggiare l'emergenza e quindi l'impatto sulle imprese. Il quadro temporaneo recentissimo ha spiegato mette in campo tre possibilità di intervento aiuti con importo limitato per imprese anche del settore agricolo sostegno e liquidità attraverso garanzie dello Stato compenso dei prezzi relativamente all'aumento dell'energia. Gli sviluppi della questione verranno valutati nuovamente in un'apposita riunione della Commissione prevista per il prossimo mese di maggio. In terza Commissione, audizione del garante per i detenuti e dei direttori sanitari delle case circondariali dell'Umbria. Il servizio. Una grave carenza di personale, sia medico che infermieristico, nelle carceri Umbre, acuita da condizioni contrattuali che anziché prevedere incentivi per chi dovesse optare per il lavoro nelle strutture penitenziarie, non garantisce lo stesso trattamento economico di altre categorie. I medici delle USCA hanno una tariffa oraria quasi doppia rispetto ai medici di continuità assistenziale e i professionisti in forza agli ospedali guadagnano il triplo. Nelle carceri Umbre sono rientrati in servizio medici in pensione e c'è la necessità di prorogare i contratti in scadenza dei medici assunti per il periodo legato all'emergenza Covid. Servirebbe una maggiore flessibilità contrattuale e meno paletti, come quello rappresentato dalle incompatibilità fra incarichi per agevolare il lavoro di chi è chiamato a dare continuità assistenziale in strutture che necessitano, per ovvie ragioni di sicurezza, anche di un'adeguata copertura dei turni. Queste considerazioni sono state fatte da responsabili e dagli operatori della sanità penitenziaria nelle strutture Umbre nel corso dell'audizione richiesta dal consigliere Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle che si è svolta in terza commissione a cui hanno preso parte il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Giuseppe Caforio, e il direttore regionale della sanità Umbra, Massimo Braganti. Il garante Caforio ha detto che sulla sanità carceraria è inciso non solo la pandemia, ma anche e soprattutto la difficoltà a dare risposta alle patologie diverse dal Covid essendosi verificata discontinuità assistenziale anche per casi gravi. Il direttore regionale della sanità, Massimo Braganti, ha rassicurato sul fatto che i contratti in scadenza saranno prorogati e ha detto che prosegue una caccia non facile ai professionisti. I medici non si trovano, a medicina permane il numero chiuso. Sarà cercata una soluzione attraverso accordi aziendali con le difficoltà dovute al fatto che le remunerazioni sono diverse e i professionisti scegliono legittimamente dove andare a lavorare. La Commissione Sanità, presieduta da Eleonora Pace, ha previsto un monitoraggio della situazione e un ulteriore successivo incontro per fare il punto. Nuovo approfondimento in terza commissione sull'Istituto Prosperius Tiberino, ce ne riferisce Marco Paganini. La Commissione Sanità dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Eleonora Pace, è tornata ad occuparsi dell'Istituto Prosperius Tiberino con una audizione a cui hanno partecipato il sindaco di Umberti, del presidente del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale dell'azienda USLUmbria 1 e la RSU di Prosperius. L'incontro è stato richiesto da Michele Bettarelli, del Partito Democratico, che ha ricordato di aver sollecitato più volte un approfondimento sull'attuazione della legge regionale che ha definito la situazione dell'Istituto. Gli interventi dei soggetti invitati hanno messo in evidenza che l'Istituto ha affrontato due anni molto complessi in relazione all'emergenza Covid che ha rallentato, per un periodo anche bloccato, le attività. Anche l'aumento dei costi dell'energia avrebbe impattato sui bilanci della struttura sanitaria. Rispetto alle scadenze previste dalla legge, gli incontri e il confronto tra le parti coinvolte avrebbero portato, in un clima particolarmente positivo e favorevole, ad individuare la metà di aprile quale termine per la firma della Convenzione per l'utilizzo dei beni in concessione e la fine di quel mese per la sottoscrizione del preliminare. Da più parti è stata infine sottolineata l'importanza dell'Istituto per quel territorio così come per il complesso del sistema sanitario regionale e l'esigenza di garantire servizi prestati così come la continuità occupazionale del personale. Proseguono le audizioni della Commissione regionale antimafia dell'Assemblea legislativa sulle attività di contrasto alla criminalità organizzata. È stato ascoltato il procuratore generale Sergio Sottani. La Commissione d'inchiesta dell'Assemblea legislativa dell'Umbria sui fenomeni di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti, presieduta dal consigliere Eugenio Rondini, ha ascoltato in audizione il procuratore generale Sergio Sottani per un confronto sulla situazione relativa a infiltrazioni mafiose sul territorio, ai pericoli rappresentanti dalle infiltrazioni nelle attività di ricostruzione ancora in corso a seguito degli eventi sismici del 2016, si aggiungono quelli collegati ai finanziamenti pubblici previsti per far fronte alla crisi economica acuita dalla situazione sanitaria. Sì, è un momento importante per noi con l'audizione del procuratore generale dopo che abbiamo audito i tre procuratori, quindi di Perugia, di Terni e Spoleto. Un punto di vista che ci darà il procuratore per permetterci di lavorare in maniera efficiente e concreta sulla proposta di legge. Un momento importante per condividere le problematiche e le esigenze di questa regione su temi importanti, fra cui il principale è quello della possibilità di infiltrazioni per quanto riguarda i suoi fondi tanto agognati del PNRR che arriveranno, speriamo, il prima possibile nella nostra regione. Faremo più adizioni e addirittura andremo anche a Terni perché esiste un fenomeno che queste adizioni ci hanno evidenziato che è quello del consumo smodato delle sostanze stupefacenti soprattutto nel mondo dei giovani. Quindi andremo a Terni e faremo l'audizione col procuratore di Terni, con i CERT, con gli operatori scolastici e quindi per capire meglio come intervenire. E per poi prossimamente audiremo vari soggetti perché ci sta a cuore, è stato sollecitato questo dalla minoranza, la questione di fonti legge. Il procuratore generale ha sottolineato che oltre all'aspetto repressivo esercitato da magistratura e forze dell'ordine è altrettanto importante l'azione culturale da portare avanti contro la criminalità organizzata a tutti i livelli all'interno della società, a partire dalle scuole ma anche nelle imprese e con l'ausilio delle istituzioni. Per quanto mi riguarda cercherò di spiegare in maniera più analitica quello che sinteticamente ho detto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che cioè nell'Umbra non c'è un problema di radicamento del sistema mafioso ma non per questo il pericolo mafioso è meno grave. Anzi, c'è quel pericolo che viene definito di mafia silente o mafia dei servizi che è ancora più subdura perché cerca di insinarsi in territori sani per poter riciclare il denaro che viene dai traffici illeciti. Il pericolo della crisi che nel caso dell'Umbra sono tre crisi una derivante dal terremoto del 2016 e quindi l'attività di ricostruzione che porta molto denaro europeo secondo quello nazionale derivante dalla pandemia terzo dall'ulteriore crisi economica derivante dalla situazione in Ucraina determinarà una situazione di estremo disagio economico e con dei interventi e contributi dal punto di vista dello Stato considerevoli. Purtroppo storicamente è dimostrato come questi contributi siano appetiti dalla mafia e quindi dobbiamo mettere tutte le forme di controllo a tutti i livelli non solo quindi repressivo penale per cercare di evitare che quei soldi finiscano nei mani della criminalità organizzata. In Umbria dunque non vi sarebbero evidenze della presenza della mafia tradizionale quella con la lupara ma si vigila sulle varie forme rilevate e sulla nuova dimensione assunta da tempo dalla criminalità organizzata con la mafia che diventa imprenditoriale, finanziaria si evolve e ricicla i proventi del narcotraffico in territori lontani dalla fonte originaria. Una mafia mercatista che trova anche consenso quando dà servizi concede subappalti a prezzi più bassi, usa contributi pubblici, fa evasione fiscale condizionando l'intero sistema economico. La nuova frontiera di contrasto a questa criminalità, ha sottolineato il procuratore, sconta le difficoltà dovute al silenzio delle persone offese ma anche al pericolo costituito da quella forma di complicità che può venire a instaurarsi quando si riescono a pagare meno tassi avere più facilmente appalti con l'ausilio di professionisti del settore. Per contrastare tutto questo è necessaria la conoscenza dei dati economici il riscontro fra dati bancari, fra quelli in possesso delle camere di commercio di confindustria, delle istituzioni per individuare situazioni sospette come arricchimenti improvvisi e ingiustificati di persone che fungono da prestanome serve un controllo sui frequenti spostamenti o prelievi di somme serve una cultura dell'attenzione verso gli investimenti finanziari fino ad ora c'è stata scarsa consapevolezza dei pericoli ci sono segnali per capire se qualcosa di sospetto sta accadendo ad esempio quando si verifica l'estromissione del titolare di un'attività anche se compiuta in modi legittimi attraverso la verifica su operazioni finanziarie che possono rivelarsi inesistenti sui prelievi eccessivi oppure anche sotto soglia ma ripetuti nel tempo per questo serve la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nei processi economici devono essere segnalate operazioni sospette o trasformazioni dell'oggetto sociale che sempre più è generico, non a caso occorre quindi favorire la cultura della legalità a cominciare dalle scuole e quindi nelle imprese e nella pubblica amministrazione rendere appetibile questa forma di coscienza del problema e sviluppare buone prassi nella stipula dei contratti su cui non devono mancare la conoscenza e la trasparenza I consiglieri del Partito Democratico Fabio Paparelli e Tommaso Bori hanno annunciato una interrogazione alla Giunta regionale per conoscere i motivi dell'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali agli incontri sulla vertenza San Gemini con i vertici del gruppo Acqua e Minerale e gli sviluppi delle trattative in corso rispetto al piano presentato e agli impegni formalmente assunti Paola Fioroni, consigliere della Lega e vicepresidente dell'Assemblea legislativa interroga la Giunta regionale per sapere quali sono gli strumenti e progetti che la Regione intende adottare per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e in che modo si intenda incentivare i giovani non occupati e nemmeno impegnati in percorsi di istruzione a riprendere gli studi quindi quante risorse destinare a questo scopo dai fondi della missione 4 del PNRR Thomas De Luca, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle avanza una proposta di legge sulle norme per l'adattamento ai cambiamenti climatici e contrasto all'emergenza ambientale un provvedimento con cui la Regione dichiari ufficialmente lo stato di emergenza climatica sviluppando un piano di adattamento che tenga conto dell'aumento delle temperature e delle conseguenze la proposta prevede un comitato tecnico-scientifico che valuti i possibili scenari e sviluppi strategie di adattamento Il consigliere regionale Vincenzo Bianconi ha depositato una mozione per rendere disponibili ai cittadini di Norcia e Cascia adeguati servizi ospedalieri e assistenziali disporre l'immediata riorganizzazione del servizio di emergenza con un'ambulanza medicalizzata H24 con l'obiettivo di ripristinare i presidi sanitari e ospedalieri di Norcia e Cascia Con questa veloce panoramica sugli atti ultimamente presentati e che a breve arriveranno in aula per il voto si conclude il telecru di questa settimana in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione Umbria disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube Grazie per la vostra attenzione, arrivederci Grazie per la visione